Non si ferma la querelle sul mercato settimanale a Taurianova, ricollocato in parte su alcune strade del centro cittadino, sta creando polemiche a go-go da parte delle opposizioni. Ad aprire le danze, o per meglio dire, ad accendere le polveri, è il consigliere di minoranza Maria Teresa Perri del gruppo Innamorati di Taurianova. Si sono notati in modo inequivocabili, dichiara il consigliere, i disagi, la disorganizzata dislocazione delle bancarelle, con distanze tra di loro al limite del ridicolo, la confusa disposizione dei vari settori merceologici e il passaggio delle automobili tra la gente. Insomma, un caos organizzato, verrebbe da dire dal sindaco Fabio Scionti, senza sentire neppure il parere delle opposizioni. E proprio su questo punta il dito l'altro consigliere di minoranza, Maria Stella Morabito. Non si è voluto prendere esempio da realtà migliori, afferma, né discuterne prima o ascoltare i consiglieri. L'esponente dell'opposizione auspica un nuovo confronto politico sulla vicenda e rivendica la critica costruttiva portata avanti nel recente passato quando indicò una zona differente per l'esercizio lavorativo dei banconisti, via Trento e Trieste o via Tommaso Campanella. Punti strategici nei pressi dell'ex stazione, potevano essere delle zone che non andavano ad impattare sul niente, sottolinea il consigliere di minoranza. Dato che il progetto è in via sperimentale, se la maggioranza dovesse fare autocritica, aggiunge ancora, sono pronta a lavorare per la risoluzione delle problematiche.